Fra Emma e sua madre, Aurora, i rapporti non sono mai stati idiliaci. Neanche il suo matrimonio con un insegnante, ha avuto l'approvazione materna. Dopo la nascita di due figli, Emma è di nuovo incinta e non vuol sentir parlare di aborto. Intanto Aurora inizia un flirt con il suo vicino, Garrett, un ex astronauta, meno cinico di quanto sembra. E quando Emma scopre di avere un cancro affiderà i figli alla madre, il cui legame con Garrett sembra dare garanzie di solidità.